stiamo andando verso via poli secondo tratto ed oggi è il 12 giugno 2012 sono le 8 e 40 del mattino e stiamo riprendendo praticamente i lavori che sono iniziati a via poli siamo verso le scalette di vialdomoro vedete sempre quali immondizia sto aspettando che si inizia a pulire ripeto ancora una volta siamo riusciti avere una vittoria come vedete iniziano i lavori a via poli un'altra battaglia vinta dimostrata con i fatti che l'amministrazione uomo è presente sul territorio in attesa anche di riqualifica di altre strade e come vedete il camion stanno praticamente montando e sarà rifatta tutta la strada vedete stanno mettendo praticamente il cantiere come potete vedere sarà riqualificata via poli primo secondo e terzo tratto votata nel 2006 e ancora una volta facciamo i fatti l'impegno da parte dell'amministrazione del consigliere comunale dei consiglieri che hanno votato di maggioranza il consiglio comunale anche del mio amico e consigliere il consiglio comunale luigi scognamiglio abbiamo fatto i fatti come vedete è l'ordinanza numero 326 del 6 giugno 2012 e i lavori inizieranno l'otto quindi sono iniziati finiscono il 27 2012 quindi praticamente sarà fatto questo secondo tratto di via poli il terzo tra il primo tratto di sopra e il tratto di giù come si può vedere dalle immagini quindi sono iniziati ufficialmente i lavori a via poli quindi l'amministrazione Cuomo ancora una volta come sempre dimostra praticamente l'impegno e i lavori che